Milan, Dinamo Zagabria finisce 3-1, il Milan riesce a finire contro il Dinamo Zagabria questa partita di Champions di oggi, 14 settembre, 2-22, 3 gol, 3-2 gol meraviglioso, il Dinamo fa soltanto un gol, non basta per ottenere la vittoria, veramente con il Milan in grande esposizione si può ritirare più che soddisfatto. Giroud la mette dentro, è un rigore al 45esimo, poi Alexis Saremakers al 47esimo del secondo tempo e Tommaso Pojepa obbliga al 77esimo del secondo tempo. Per quanto riguarda il Dinamo Zagabria, il gol l'unico arriva al 56esimo del secondo tempo, firma Dimislav Oresic, bella partita, il Milan sfade l'armi a tante derivate alla sua bravura, il Dinamo Zagabria non riesce a entrare in partita, giù sul secondo tempo grazie a un guizzo di Oresic che riesce a metterla dentro. Mi ringrazio per l'ascolto di Biodermia qua, iscrivetevi al canale e andate a vedere commentare, ciao a tutti.